Polonia, Ecuador, Francia, Corea, Martinica, Messico e naturalmente Italia per la 33esima estate internazionale del folclore del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari dal 16 al 23 di agosto. Poi tanti gli appuntamenti collaterali al festival. Come sempre lo standard sarà quello con gli appuntamenti già consolidati, con le lezioni di ballo, ma ci saranno delle belle novità. Noi vi aspettiamo tutti quest'anno a Castrovillari, tutto il mondo in piazza municipio dal 16 al 23 agosto. Lei diceva che tutto il mondo è in piazza municipio a Castrovillari proprio perché la location anche quest'anno sarà piazza municipio. Certamente, abbiamo deciso di rifare nuovamente la manifestazione nel centro di Castrovillari proprio per dare maggiore visibilità al nostro centro cittadino e anche grazie alla collaborazione delle attività commerciali che quest'anno vogliono sostenere direttamente la manifestazione. Quindi diamo la possibilità di ritrovarci tutti quanti in questo centro e di vivere comunque il centro città, anche se ci saranno nel nostro centro storico, quindi sia al Castello Aragonese sia al Protoconvento Francescano, altri eventi collaterali. L'evento porterà in piazza con l'hashtag tutto il mondo in piazza municipio diverse etnie, usi, costumi, saperi e sapori dei gruppi che parteciperanno alla Kermesse per arricchire chi vive l'esperienza di assistere ad una delle manifestazioni più belle che si tengono nella nostra regione. Una sfida impegnativa per l'associazione EIF Estate, internazionale del folklore e per il suo direttore artistico Antonio Notaro. L'appuntamento è punto di forza dell'estate castrovillarese, quest'anno ricco di sorprese che coinvolgeranno tutti coloro che dalle coste vicine e dall'entroterra si riverseranno a Castrovillari per essere anch'essi cittadini del mondo. Direttore, quali le parole d'ordine di questo festival? Quest'anno saranno due, tutto il mondo in piazza municipio e Castrovillari città festival. Viva il festival!